Usciranno entro ferragosto i due bandi del progetto L'Aquila Include. Il progetto ha lo scopo di ridurre il numero delle famiglie a rischio povertà ed esclusione sociale. Saranno 107 i soggetti coinvolti nei tirocini formativi in aziende, liberi professionisti e associazioni allo scopo di favorire il loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e nel corso del tirocino percepiranno un emolumento mensile. Il progetto è stato finanziato per un importo totale di 650.000 euro. Il primo bando servirà per individuare le 107 persone per i tirocini formativi. Queste persone saranno selezionate in base a dei requisiti riportati sul bando che terranno conto di varie situazioni, tra cui il basso reddito, la disoccupazione, la mancanza di fissa dimora, l'immigrazione. Un altro elemento che sarà la base della redazione della graduatoria sarà un'età superiore ai 45 anni che costituirà un requisito di vantaggio. Il secondo avviso è rivolto alle aziende, ai liberi professionisti, alle associazioni, agli artigiani, in generale alle categorie produttive che vorranno dare la loro disponibilità a accogliere le persone che saranno individuate con il primo bando per i necessari tirocini formativi. I tirocini avranno la durata di 6 mesi per 80 ore mensili e durante lo svolgimento del progetto le persone che svolgeranno i tirocini percepiranno un sostegno economico di 600 euro mensili.